Siamo arrivati sotto l'ufficio suolastico provinciale! Questi dirigenti devono smetterla di fare le pinte manager! Iniziasse l'accusa in ordine! Hanno chiuso proprio con le sbarre qua. Proviamo all'altro ingresso. Buongiorno. Aspettavamo di parlare con la dirigente. Non c'è qualcuno che ci parla o no? No, non c'è nessuno. Dobbiamo andare fuori. Purtroppo sì, abbiamo gli ordini per... Stamattina sono stati qua sotto gli studenti. Non so se loro sono riusciti poi a salire e avere un'interlocuzione. Sì, loro sì. Noi però abbiamo avuto solo porti in faccia per ora. Evidentemente non si sa cosa dire. Ci sono delle responsabilità e quindi è giusto che qualcuno capisca quello che è successo.